Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto però. Si chiude qui il nostro collegamento, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!